Ed è stato approvato il progetto per la realizzazione della tangenziale nord a Campobasso, il Consiglio Comunale dà infatti il Via Libera. Tangenziale nord a Campobasso, il Consiglio Comunale approva il progetto, Assessore Maio, è comunque, come è stato sottolineato, un giorno importante. Sì, è un giorno importante non solo per questa amministrazione, ma soprattutto per la città di Campobasso. Mettere a disposizione 18 milioni di euro da parte della giunta regionale, del Consiglio regionale per questa città e procedere a breve con l'inizio dei lavori per la tangenziale nord che serve a chiudere un anello intorno alla città, quindi un momento importante, uno snodo importante in termini di viabilità, mi sembra un fatto importante. Ripeto, per la città di Campobasso, di questo ne sono particolarmente soddisfatto, felice, anche perché si crea in questa città occupazione che ce n'è tanto bisogno. Ecco, Assessore, è stato votato anche un ordine del giorno che si invita alla Regione a non perdere il finanziamento e anche allungare un po' i termini. Sì, è un ordine del giorno che noi abbiamo votato come maggioranza. Sono certo che nessuna amministrazione regionale farà perdere un finanziamento alla città di Campobasso. Il finanziamento scade il 31 dicembre 2018. Il RUP, che è l'unico titolare a poter richiedere un prolungamento della Convenzione, lo farà se eventualmente c'è necessità di farlo. Sono soddisfatto anche di un altro ordine del giorno che è stato approvato da questa maggioranza, quello di vedere nell'ambito delle possibilità finanziarie di porre fine anche il famoso snodo sotto la tangenziale, la famosa rotatoria dove è successo anche qualche incidente, ahimè, mortale. Questa è una competenza dell'ANAS di Campobasso. Il sindaco ha già interlocuito con i rappresentanti dell'ANAS. C'è molta disponibilità, se ne sta parlando. Speriamo che contestualmente si possa risolvere anche quel problema di accesso al rivolo, all'inversione che sappiamo tutto sotto la futura tangenziale. Mi sembra quindi una pagina bella, scritta a carattere cupidale per questa città. Non succede molto spesso in termini generali, quindi siamo tutti contenti e felici di poter dare un'opera importante, importantissima, non solo per la città ma per l'intera regione di Regione Molise.